Blastomicosi, calmare i sintomi con rimedi naturali. La blastomicosi è un'infezione micotica. I sintomi possono essere tenuti sotto controllo con l'aiuto di alcuni rimedi naturali, ma bisogna sempre consultarle prima o uno specialista per ricevere una diagnosi corretta. A volte quella che sembra un'influenza comune si estende più del previsto e finisce per attaccare zone diverse dalle vie respiratorie. È il caso della blastomicosi. In questi casi, è importante consultare il medico di fiducia affinché possa valutare la situazione. Potreste essere affetti da un'infezione micotica conosciuta come blastomicosi. In questo articolo vi presentiamo 5 rimedi naturali efficaci per calmare i sintomi di questa malattia. Cos'è la blastomicosi? La blastomicosi, o malattia di Gilchrist, è una malattia infettiva che colpisce prevalentemente i polmoni, la pelle e le ossa. Quest'infezione è causata dal fungo blastomicos dermatitis. Il sistema respiratorio è il più colpito, dal momento che la forma di contagio più comune è proprio attraverso le vie respiratorie, per inalazione del fungo. A seconda dello stato immunitario dell'organismo ospite, il fungo può passare nel sangue e colpire altri tessuti, come ossa o pelle. In genere questo fungo si trova nel materiale organico in decomposizione, come foglie e rami, nei terreni umidi. Raramente viene trasmesso attraverso la pelle, pertanto è meno probabile che colpisca altre parti del corpo. In caso di blastomicosi cutanea, inoltre, di solito il problema scompare da solo. Sintomi della blastomicosi La blastomicosi polmonare non presenta sempre sintomi chiari, a meno che non si estenda ad altri tessuti. In questo caso, i sintomi saranno simili a quelli di un'influenza acuta o una polmonite. Ad esempio, malessere generale Dolore muscolare o affaticamento Dolore delle articolazioni Sensazione di dolore al petto Febbre Tosse Talvolta con espulsione di muco Contracce di sangue Difficoltà respiratoria Quando si tratta di blastomicosi cutanea, le lesioni si presentano in zone come ascelle, collo, viso o arti. I sintomi sono Lesioni cutanee simili a verruche o ulcere. Lesioni indolori Possono avere un colore grigio-violaceo. Le lesioni tendono a concentrarsi intorno al naso e alla bocca. Possono sanguinare facilmente e formare ulcere. Rimedi naturali Per calmare i sintomi della blastomicosi Viste le caratteristiche di questa malattia, a volte è difficile distinguerla da altre patologie. Pertanto, può risultare un po' complicato trovare un trattamento adeguato. Per questo motivo, i rimedi naturali possono essere di grande aiuto quando la medicina allopatica non è stata ancora prescritta dallo specialista. Ecco alcune opzioni. 1. Olio di cocco Quest'olio è molto conosciuto per le sue innumerevoli proprietà. Fra queste, si riconoscono proprietà antimicotiche e antibatteriche. Per questo motivo, l'olio di cocco è un ingrediente molto utile del trattamento di infezioni micotiche. Ingredienti Olio di cocco Quanto basta, come usarlo Prendete un cucchiaino di olio di cocco al giorno, 5 ml, quando sono presenti lesioni cutanee. Applicate un po' di olio sulla pelle dopo la doccia. 2. Mangiare aglio L'aglio è l'antimicotico per eccellenza, ragione per cui è altamente indicato nel trattamento delle malattie di origine fungina, come la blastomicosi. Grazie al suo contenuto di allicina, stimola il sistema immunitario. Ingredienti 2 spicchi d'aglio o 1 capsula d'aglio Nel caso in cui l'aglio crudo non sia di proprio gradimento, come consumarlo? Mangiate 2 spicchi d'aglio al giorno o 1 capsula d'aglio 3 volte al giorno 3. Vitamina C La vitamina C è una grande alleata nel trattamento delle infezioni, perché possiede un'importante azione stimolate per il sistema immunitario. Il consumo di questa vitamina può calmare i sintomi della blastomicosi. Ingredienti Agrumi Mandarini Limoni Arance Eccetera Integratori di vitamina C Come consumarla? Mangiare almeno un agrume al giorno. Se preferite, potete prendere un integratore di vitamina C al giorno. 4. Su fumigi di eucalipto L'eucalipto è una pianta altamente consigliata in caso di problemi alle vie respiratorie per le sue proprietà antisettiche e antibatteriche. È largamente utilizzata nel trattamento delle malattie delle vie respiratorie, perché elimina le possibili cause di infezione in queste aree. Ingredienti 10 gocce di olio essenziale di eucalipto 4 tazze d'acqua 1 litro 1 asciugamano Come usarlo? Aggiungete le gocce di olio di eucalipto all'acqua e riscaldate. Quando bolle, togliete dal fuoco. Coprite la testa con l'asciugamano e mettete il viso sulla pentola. L'asciugamano deve coprire la superficie della pentola per evitare di far uscire il vapore. Inalare profondamente per aiutare il vapore a penetrare nelle fosse nasali. Continuate finché l'acqua non si raffredda. 5. Idraste Questa pianta, originaria del Canada, è conosciuta con vari nomi. È un potente antimicotico, che si usa insieme ad altri rimedi che possiedono le stesse proprietà. In questo modo, se ne amplifica l'effetto. Ingredienti 10 gocce di tintura di idraste 1 tazza di acqua, 250 ml, capsule di idraste Nel caso in cui non apprezzate il sapore di questa pianta, come consumarlo? Versate la tintura di idraste in acqua e mescolate. Bevete la preparazione tre volte al giorno. Se preferite, sostituite la tisana con una pillola, sempre tre volte al giorno. Questi rimedi naturali possono essere molto utili per trattare le infezioni di origine micotica, come la blastomicosi. Tuttavia, non dimenticate di consultare prima il medico di fiducia. Conoscendo le caratteristiche specifiche della vostra patologia, troverete anche il modo migliore di trattarla. I rimedi naturali, quindi, saranno il miglior alleato per alleviare i sintomi e recuperare la forma. 5. 11. 12.